Nel decreto sostegno è contenuta una misura di grandissima importanza, è previsto infatti che i lavoratori fragili, tutti quelli che sono particolarmente vulnerabili e quindi rischiano di più il contagio e le conseguenze del contagio, possano percepire lo stipendio restando a casa fino a giugno. Questa misura, che è una misura di grandissima portata, è stata integrata anche rispetto ai provvedimenti che già sono stati assunti precedentemente con il chiarimento che questa assenza dal lavoro è equiparata a tutti gli effetti al ricovero ospedaliero e non ha rilevanza per quanto riguarda il comporto. Che cos'è il comporto? È il rischio in qualche modo che oltre a una certa assenza ci possano essere elementi che pregiudicano la condizione lavorativa del dipendente e in questo caso la norma esclude in modo esplicito queste eventuali ripercussioni. Credo che sia un passo avanti molto importante che dà un sospiro di sollievo a persone che sono già in grave difficoltà per condizioni soggettive.